46.000 mascherine in alta protezione per gli operatori delle sette asle regionali. In attesa che arrivino nelle case dei campani le 4 milioni di mascherine promesse dalla regione campania, i consiglieri del gruppo regionale del Movimento 5 Stelle si sono tagliati lo stipendio ricavando 150.000 euro per acquistare 46.000 protezioni per i sanitari delle sette aziende del territorio. La prima consegna agli operatori del 118 in servizio all'ospedale del mare, dove due giorni fa è entrata in funzione la nuova struttura con 48 posti di terapia intensiva per le persone contagiate dal coronavirus. È il nostro grazie a chi mette a rischio la propria vita per salvare altre vite. Stamattina siamo alla centrale operativa del 118 dell'As Napoli 1. Abbiamo consegnato una prima trancia di mascherine insieme agli altri consiglieri regionali. Nei prossimi giorni le distribuiremo ai 118 delle altre asle della campania.